messaggio alla croce rossa e a tutto il personale medico in italia grazie per il vostro coraggio che non conosce riposo e grazie per la vostra dedizione verso chi ha bisogno apprezziamo ciò che state facendo e vi auguriamo con tutto il cuore che questo difficile momento per voi e il vostro paese abbia presto fine la mezza luna rossa e il popolo palestinese sono al vostro fianco e vi sostengono speriamo che tornate presto ad essere il popolo solare che tutto il mondo conosce siamo tutti con voi forza italia andrà tutto bene